Uno. Da dove devo iniziare? Due. Questo fiume fino a dove scorre? Tre. Di dove sei? Quattro. Dove stai andando? Cinque. Da quando vivi in Italia? Sei. Fino a quando starai? Sette. Entro quando devi fare i compiti? Sette. Otto. Di cosa stanno parlando? Nove. Con cosa è fatta questa torta? Dieci. Di chi stanno parlando? Undici. Per chi è la rosa? Dodici. A chi stai telefonando? Fiume. Grazie a tutti.